Da Renzi a Schlein, passando per Bonaccini, D'Alema, Ilaria Cucchi, Landini e tanti altri grandi nomi del panorama politico, sindacale e non solo. La festa dell'unità di Pesaro, che quest'anno è anche la festa regionale dei dem marchigiani e quella di Vallefoglia, non hanno voluto far mancare nulla, poiché è da quei parchi e da quelle piazze che vogliono ripartire alla riconquista delle Marche. Questo sarà un evento di punta con cui simbolicamente ci prepariamo ad affrontare la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, ma soprattutto in cui vogliamo dimostrare che siamo già al lavoro per l'alternativa. Tra gli ospiti infatti ci abbiamo tenuto molto, oltre che a chiamare a raccolta tutta la nostra comunità democratica, da tutti i livelli di partito a tutti i nostri amministratori e rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, anche molte forti della società civile, tra associazioni di categoria, sindacati, terzo settore, perché siamo interessati ad ascoltare la testimonianza di chi vive il territorio tutti i giorni, ma anche esponenti di altre forze politiche, con cui abbiamo da tempo un dialogo e con cui ci piacerebbe costruire quel campo largo che può essere quel progetto forte per poter rappresentare un'alternativa credibile al governo Acquaroli. Un palco, quello pesarese, che potrebbe diventare storico se riuscirà a sancire la pace tra PD e Italia Viva, visto il confronto tra i due Matteo, ovvero Ricci e Renzi. Dobbiamo essere capaci di dialogare e di ascoltare. Nella capacità di dialogo ci sta anche un elemento, che è quello della concretezza. Io prima nella presentazione facevo riferimento a una parola che è tipica di questi giorni, perché è il settantesimo della scomparsa di De Gasperi, che era la pazienza. Io credo che in politica servi la pazienza, ma non la pazienza di chi dorme, ma la pazienza di chi vigila ed è pronto a rilanciare una sfida politica. Dialogare con Matteo Renzi io penso che sia un fattore positivo. Ovviamente bisognerà stanarlo da quel modo che ha di mettere in cattiva luce la persona debole di turno. Per cui io credo che non solo Matteo Renzi, ma tante figure del moderatismo politico italiano abbiano capacità di dialogare con noi, noi dialogare con loro e da lì ripartire. Tanti grandi nomi in programma anche a Vallefoglia, dove i numeri di amministrative europee hanno riportato il PD ad essere la primo partito. La nostra festa quest'anno si allunga, a posto di tre giorni sarà di cinque giorni. Iniziamo mercoledì 28 agosto e finiremo domenica 1 settembre. La location è sempre la stessa, il parco Guido Volponi vicino alla chiesa di Montecchio e sarà un grandissimo evento popolare che intreccia la musica, la commedia dialettale e la politica. Parteciperanno tanti ospiti anche di caratura nazionale e non solo, perché avremo tre europarlamentari, Stefano Bonaccini che è anche presidente nazionale del Partito Democratico, Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, non è eletto al Parlamento Europeo, e Camilla Laureti che è la vicepresidente del gruppo dei socialisti democratici al Parlamento Europeo. A loro si aggiungono anche quattro deputati della Repubblica, del nostro appartito, Claudio Mancini, Irene Manzi, Augusto Curti e anche membri del sindacato. Questo perché vogliamo tenere vivo un dialogo anche con le altre forze politiche. Ci sarà la presenza di Ilaria Cucchi che è una senatrice di alleanza Verdi e Sinistra e un'alleanza anche con le forze sociali. Parteciperà anche la nostra segretaria regionale Chantal Bonprezzi e i consiglieri Mangialardi e Michaela Vitri che parleranno di come la sanità nella regione Marche sta prendendo una deriva del tutto privata.